ciao amici oggi parliamo di un frutto che in questa stagione rallegra le nostre tavole il kiwi personalmente lo trovo gustosissimo e cerco di mangiarlo spesso anche io lo adoro è buono e versatile buono per il palato è ottimo per sperimentare in cucina il kiwi è anche benefico vediamo allora insieme sei incredibili benefici del kiwi se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 è nutriente il kiwi dà un buon apporto di minerali come calcio fosforo magnesio e ferro è inoltre una fonte di potassio e di vitamine come la vitamina c ed e 2 la vitamina c è la sua vera forza non tutti sanno che il kiwi contiene più vitamina c della maggior parte degli agrumi bastano 100 grammi di questo frutto per coprire il fabbisogno giornaliero di vitamina c ottima contro i malanni invernali rinforza il sistema immunitario ed è antiossidante cosa ne pensate amici di alternare la spremuta d'arancia con un bel kiwi conoscevate già questo asso nella manica del kiwi scrivetemelo nei commenti 3 ottimo per la dieta il kiwi è poco calorico 100 grammi di questo frutto forniscono solo 44 calorie a pochissimi grassi e zuccheri come ogni frutto il kiwi è acqua per l'ottanta per cento 4 è energetico il potassio che contiene in gran quantità lo rende il frutto perfetto per l'allenamento infatti regola la funzione muscolare e previene i crampi da molta energia ma senza appesantire e naturalmente non in grassa 5 regola pressione e glicemia importanti anche i benefici del magnesio regolatore di pressione e glicemia la dieta occidentale generalmente povera di magnesio perciò i kiwi rappresentano un importante integratore naturale di magnesio 6 fa bene a cuore circolazione e intestino come la frutta in generale anche i kiwi fanno bene a cuore e circolazione sono infatti privi di colesterolo e contengono la pectina che aiuta a ridurlo le fibre invece sono un aiuto per raggiungere la regolarità intestinale e i suoi semini sono i migliori amici dell'intestino 7 un tocca sana per accendere il desiderio il kiwi è un vero tocca sana per gli uomini contiene la xantofilla che previene il tumore alla prostata e l'arginina un vaso dilatatore che combatte l'impotenza in modo naturale avete visto amici quanti benefici ha il kiwi per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali